Musica Buonasera da Alessandra Buccia e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura torniamo sull'ennesimo caso di meningite a Bari. Vanno migliorando le condizioni dello studente universitario barese di 23 anni colto da malore subito dopo essere atterrato ieri sera all'aeroporto di Bari proveniente da Valencia e al quale i medici hanno diagnosticato una meningite di tipo C. Il giovane fanno sapere fonti sanitarie e sta rispondendo alle terapie e le sue condizioni, se il decorso proseguirà regolarmente, dovrebbero decisamente migliorare nella giornata di domani. Lo studente resta comunque ricoverato nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari. I privi disturbi, febbre, mal di testa il giovane, sempre secondo fonti sanitarie, li aveva già accusati prima di partire dalla Spagna. Tanto da recarsi ad un presidio medico di Siviglia dove però non gli avevano diagnosticato la meningite. Cambiamo argomento. Il voto è slittata lunedì prossimo la firma del decreto di nomina dei nuovi assessori da parte del neosindaco Antonio De Caro a causa di qualche malumore tra i partiti. L'impostazione annunciata a 5 uomini e 5 donne di età vicina ai 40 anni sarebbe confermata. Tra i nomi ormai certi quelli di Pietro Petruzzelli che andrà all'ambiente, l'assessorato al welfare andrebbe a Francesca Bottalico, delega alle aziende a Pala Romano, mentre vice sindaco dovrebbe essere Carla Palone. All'urbanistica potrebbe arrivare Carla Tedesco, Vincenzo Brandi invece al contenzioso, mentre Silvio Vaselli otterrebbe l'assessorato alla cultura. Da Selle potrebbero entrare in giunta Pierluigi Introna o Valentina Santo Liquido. Per loro non è ancora definita l'eventuale delega. Si contendono infine un posto d'assessore anche Angelo Tomasicchio, Fabio Di Fonte e Titti De Simone. Sono cominciati oggi in Prefettura Bari e si concluderanno domani le audizioni della delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato per analizzare il fenomeno delle intimidazioni contro gli amministratori locali. La delegazione è guidata dal Presidente Doris Lomoro, in servizio di Cristina Ferrini. La delegazione della neonata Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato parta dalla Puglia per analizzare il fenomeno delle intimidazioni contro gli amministratori locali. La nostra regione è seconda in Italia ad essere visitata dalla Commissione, vanta un brutto primato. Gli ultimi eventi confermano infatti i dati dell'Associazione Avviso Pubblico che vedono la Puglia come una delle regioni in cui gli amministratori pubblici sono più colpiti dalla mano della criminalità organizzata. Questa mattina nella Prefettura di Bari sono cominciate le audizioni della delegazione guidata dal Presidente Doris Lomoro. I primi ad essere ascoltati i prefetti delle province pugliesi poi toccherà ai procuratori e ai vertici delle forze dell'ordine. Saranno ascoltati anche testimoni diretti di attacchi criminali, testimonianze importanti che permetteranno alla Commissione romana di avere un quadro chiaro della situazione. Abbiamo fatto un'indagine sui morti di persone uccise proprio nell'esercizio delle proprie funzioni. Parlo di amministratori locali e per esempio ce ne sono anche pugliesi, ce ne sono quattro di cui uno, un sindaco pugliese che è stato ucciso nel 92 e lì la matrice mafiosa era da escludere, non c'è stata. Quindi diciamo che noi abbiamo come obiettivo quello di potenziare questa posizione territoriale, gli enti locali potenziarli attraverso una presenza dello Stato maggiore. Anche questo vorrei sperare che sia significativo essere venuti qua anziché audire i soggetti in una comoda stanza romana. E torniamo a parlare dell'emergenza a casa, 1520 sfrattati nei primi nove mesi del 2013 a Bari, 509 con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e il 30% in più rispetto al 2012. I dati sono forniti dal Ministero dell'Interno, ne abbiamo parlato questa mattina in Biendgang con Nicola Zambetti, segretario del Sunia, che ha messo nero su bianco le richieste al Prefetto e al Comune. Vediamo. Noi siamo riusciti con il Governo a far recepire l'amorosità incolpevole. Il Governo ha messo a disposizione dei comuni 100 milioni di euro per questo. Stiamo aspettando che il Governo ripartisca queste risorse da dare ai comuni. È da febbraio che il decreto non viene pubblicato. Abbiamo chiesto alla Prefettura di sollecitare il Governo a che venga pubblicato questo decreto, questa ripartizione delle risorse. Ma nello stesso tempo i comuni devono fare degli avvisi pubblici per poter capire quanti sono le famiglie che si trovano in questa condizione di morosità incolpevole. Questo fondo può essere dato fino a 6 mila euro per aiutare queste famiglie. Ma insieme a questo occorre che i comuni istituiscono le agenzie per le locazioni. Perché non è che diamo dei soldi alla famiglia, questo sana la morosità e poi come fa a pagare l'affitto. Allora bisogna istituire un'agenzia per le locazioni che fa incontrare la domanda e l'offerta e con le risorse messe a disposizione del Governo ci siano anche delle garanzie al proprietario che i cani di locazione vengono pagati. Siamo alla cronaca, sette pistole e una mitralietta Scorpion sono state sequestrate nel porto di Bari dalla Guardia di Finanza. Le armi erano nascoste nello scomparto ricavato nel serbatoio di carburante di un'auto appena sbarcata da una motonave proveniente dal Montenegro. Il mezzo, proprio per non destare sospetti, era stato noleggiato qualche giorno prima della partenza con regolare contratto da una società del Montenegro. Il conducente del veicolo, Monteneglino di 26 anni, è stato arrestato. Tasse regionali, Forza Italia presenta una petizione popolare per chiedere a Vendola di eliminare la tassazione aggiuntiva. Silvia Di Pinto. Quasi 2 miliardi di euro negli ultimi 5 anni, 270 milioni solo nel 2013. E quanto la Regione Puglia è incassato dalle tasse regionali aggiuntive, con aumenti su IRPE, FIRAP, gas metano, accise sulla benzina e contributo fisso di 1 euro sulle ricette farmaceutiche e 10 sulle specialistiche. I numeri sono forniti da Forza Italia, che oggi lancia una petizione popolare, una raccolta firme tra i cittadini pugliesi per chiedere al Governo di eliminare la pressione fiscale aggiuntiva, visto che, spiega il capogruppo in consiglio, Ignazio Zullo, agli aumenti non è corrisposto un miglioramento dei servizi. Noi, non ascoltato da Vendola, chiamiamo in causa i cittadini, attraverso questa petizione popolare, nella speranza che possa ascoltare almeno i cittadini pugliesi. I soldi per far fronte alle minori entrate ci sono e la convinzione dei vertici di Forza Italia. Gli ultimi dati, per esempio in sanità, registrano avanzi di spese e saldi positivi dai quali attingere. Come recuperare queste entrate che verranno meno? Ma da quello che è propaganda Vendola, queste entrate sono già state recuperate. Vendola oggi si vanta dell'avanzo di amministrazione nella sanità, per cui se erano state introdotte per poter coprire il deficit della sanità e oggi siamo un avanzo di amministrazione nella sanità, non giustifichiamo più la permanenza e la persistenza di questa tassazione. Formazione, orientamento, collegamento tra università e mondo del lavoro. Sono state le parole d'ordine della tappa barese di Giovani in Voce, organizzato dall'Agenzia per il lavoro articolo 1. Oggi nell'ex palazzo delle poste, studenti e laureati hanno raccontato le loro esperienze, le aspettative, i desideri, ma anche le realtà con le quali ogni giorno si confrontano. All'appuntamento hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni e delle aziende per ascoltare il punto di vista degli studenti. Sono molteplici i vantaggi che i cittadini trarrebbero dall'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni. Di questo se ne è discusso oggi a Bari in un convegno organizzato dalla Banca d'Italia. Vediamo. Aiutare le amministrazioni pubbliche a ottimizzare l'impiego delle risorse aumentando efficienza e produttività, ridurre i costi per i servizi offerti a cittadini e imprese, semplificando le pratiche burocratiche e i tempi di attesa. Sono solo alcuni dei vantaggi che deriverebbero dall'uso sistematico delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra utente e pubbliche amministrazioni. Le nuove condizioni sono sancite dal codice dell'amministrazione digitale con un decreto legislativo che risale al 2005 e che delinea il quadro entro cui deve attuarsi la digitalizzazione. Certo dei benefici che deriverebbero dall'uso delle nuove tecnologie per rinnovazione nel sistema dei pagamenti pubblici, è il presidente di Banca Italia Bari, Giorgio Salvo, oggi al Politecnico in un confronto con rappresentanti locali delle banche, delle pubbliche amministrazioni e del mondo dell'imprenditoria. Oggi i cittadini hanno il diritto ad avere il sistema telematico nei rapporti con la pubblica amministrazione, ad esempio. Bisogna migliorare sia l'offerta di questi servizi, quindi bisogna che le pubbliche amministrazioni si adeguino, bisogna anche incentivare la domanda da parte dei cittadini, perché spesso i cittadini per scarsa conoscenza delle tecnologie non si rivolgono, non chiedono l'esercizio di questi diritti. 33 false verità sull'Europa per smontare le tesi di chi critica le politiche europee. L'economista Lorenzo Binismaghi ha illustrato la sua ricetta sulla crisi dell'Europa in un convegno organizzato dalla Fondazione Tatarella. Professore, c'è una sorta di corresponsabilità dell'Europa, ma anche degli Stati che la compongono. Questa è un po' la linea sostenuta nelle 33 false verità. Provi va a dircene qualcuna. No, c'è questa tendenza a dire nei singoli paesi che l'Europa ci ha tolto tutti i poteri, la sovranità, non possiamo far più nulla. È però un modo di scaricare la responsabilità sull'Europa. Se vediamo in realtà problemi come quelli dell'Italia, di insufficiente crescita, occupazione, investimenti, molti degli strumenti per stimolare la crescita sono nelle mani degli Stati, la burocrazia, il mercato del lavoro, la tassazione del capitale, anche la giustizia, tutte queste cose che scoraggiano gli imprenditori. Questo in realtà non è l'Europa che decide, sono i singoli paesi. Dunque in realtà la ripresa economica, la crescita è in larga parte nelle mani del nostro governo, delle nostre autorità. C'è una ricetta per bilanciare la disciplina fiscale con la crescita che è un tema di cui si sta dibattendo molto in questi giorni? Innanzitutto bisogna tassare le cose che meno penalizzano la crescita. Per esempio bisogna ridurre la tassazione sul lavoro, che in Italia è la più alta di tutti. Semmai aumentare altre tasse. L'equilibrio tra quello che si tassa e non si tassa è una delle cose importanti. E poi sulla spesa pubblica bisogna cercare di tagliare la spesa corrente e non le spese in conto capitale, in investimenti. In Italia si è fatto esattamente l'opposto in questi anni. Questo è il motivo per cui siamo rimasti indietro. 5 km in corsa per emergency. Grande successo ieri per la Bari Night Run for Emergency. La maratona organizzata dalle associazioni sportive, la fabbrica di corse, Bari Road Runners. Il lungomare di Bari ha visto spilare atleti e semplici appassionati in corsa per emergency. All'associazione fondata da Gino Strada è stato infatti interamente devoluto il ricavato della vendita dei biglietti partenza e arrivo al Molo San Nicola. I primi 500 iscritti hanno anche ricevuto in omaggio la maglia dell'evento. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno poco nuvoloso, temperature comprese tra 20 e 27 gradi, venti moderati con rinforzi, mari poco mossi. Vi ricordo come sempre i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net e l'indirizzo di posta a voi dedicato infochiocciolalisegnodizorro.it Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento più tardi. Grazie per aver guardato il video.